Stavolta non sono riuscito a fare il solito video settimanale perché non ho avuto tempo. Ieri notte infatti sono diventato papà per la seconda volta di Benedetta, che andrà a fare compagnia nella stanza dei giochi di Giovanni. E quindi, beh sai, alla fine siamo qua per questo, no? Ora vado a trovare le mie donne, però ci diamo appuntamento una settimana prossima, quindi non mancare. Grazie